pensavo che essere bella significasse viversi la vita e ottenere tutto ciò che volevo si lo so che sembra stupido ma al liceo la vita era molto più facile grazie al mio bell'aspetto bastava un battito di ciglia e i secchioni mi facevano i compiti e le ragazze mi invitavano alle feste perché sapevano che se ci andavo ci andavano anche i ragazzi carini era bello avere l'attenzione dei maschi ma mi interessava solo il mio ragazzo logan era all'ultimo anno ed era davvero perfetto era così bello intelligente e un professionista sportivo c'era solo un piccolo problema non sapevo studiare era così noioso ma onestamente non importava comunque perché ero bella e sapete essere bella era abbastanza inoltre avevo una passione amo cantare e comporre musica non le pubblicizzo altro ma non mentirò erano molto orecchiabili avevamo una lunga estate insieme prima che logan andasse all'università così decisi di sorprenderlo con una canzone d'amore che avevo scritto per lui mi presentai da lui con la chitarra pronta a suonargiela ma prima di iniziare lui disse ehi lì voglio lasciarti cosa perché ho balbettato ho conosciuto un'altra non è bella come te ma è più intelligente studieremo insieme a stanford diciamolo un posto così è fuori dalla tua portata non potevo credere a cosa avevo sentito gli presi il braccio e lo pregai di dare al nostro amore un'altra chance ma lui se ne andò nei giorni successivi continuai a chiamarlo e a scrivergli ma lui mi ignorava del tutto sentendomi disperata cercai informazioni della sua ragazza sui social e scoprì che il suo nome era jolly ed era una delle migliori studentesse di un liceo in città e oddio come poteva innamorarsi di una così brutta ah quindi voleva una ragazza intelligente eh quindi se fossi entrata all'università tornava da me vero cioè di sicuro avrebbe scelto una sveglia e bella rispetto a una sveglia e brutta era deciso avrei faticato al mio ultimo anno per entrare a stanford cavolo studiare era più difficile del previsto non aiutava l'avere tante cose da recuperare e perché logan doveva studiare economia tutti i numeri e i grafici mi stordivano molto non sapevo da dove iniziare era tutto nuovo per me così chiesi a dei miei ammiratori nerd di aiutarmi all'inizio si misero a ridere di me pensavano scherzassi ma quando capirono che ero davvero seria mi diedero dei libri e cercarono di spiegarmi le cose passavo persino le mie pause in biblioteca perché era come un labirinto lì giuro che mi persi e non riuscì a trovare l'uscita per almeno un'ora una volta mi addormentai in biblioteca e un tizio pensò fosse divertente fare una foto e i giorni dopo tutti a scuola mandarono la foto di me che sbavavo su una pila di libri ma nonostante le avversità non mi arrendevo misi anche una foto di logan sul muro per ricordarmi la meta smisi di vedere i miei amici e non andai più alle feste mi sono pure persa il ballo per studiare inutile dire che i miei amici pensavano fossi pazza o altro anche mamma era preoccupata e voleva portarmi all'ospedale per un controllo oddio che ridicola smettetela di esagerare non avete mai visto una bella ragazza lavorare sodo e poi successe una cosa folle ricevetti la lettera da stanford e oddio indovinate un po ce l'ho fatta non potevo crederci e neanche la mia famiglia e i miei amici tutti erano così sorpresi e felici per me onestamente rinunciare alla musica era un peccato ma studiarla non mi avrebbe aiutato a riavere logan invece questo sì sarei stata nella sua stessa università a studiare lo stesso corso anche se un anno dopo cosa poteva andare storto così andai all'università e finì con la coinquilina più secchiona di sempre in realtà ha incollato le equazioni alle pareti oh che tipa strana inoltre studiare qui era più noioso che al liceo molto di più una volta durante macroeconomia sì era noiosa come sembrava avevo le cuffie e pensavo ai testi delle canzoni quando qualcuno bussò al mio banco come osavano interrompere il mio flusso creativo così sbottai un secondo sto scrivendo mentre guardavo ancora sul quaderno poi guardai su e vidi il prof bentley in piedi mi prese il quaderno vide il testo e disse esci subito e non tornare mai più in ogni caso ero stufa di quell'argomento che annoiava comunque davvero guardare la vernice asciugarsi sarebbe stato più bello uscì infuriata sbraitando tra me e me su quanto odiassi la sua lezione quando girai l'angolo e vidi logan che teneva per mano la sua brutta ragazza perché ora logan mi fissò come se fossi un fantasma poi chiese hayley che ci fai qui forzai un sorriso ma prima di dire qualcosa la sua ragazza parlò ah tu sei hayley l'infame stalker del mio ragazzo fammi indovinare il prof bentley ti ha cacciata immagino è allergico alle ragazze stupide poi si è portata via logan come osava ridere di me ero troppo bella per essere trattata così da gente come lei le avrei dimostrato che presto avrei riconquistato il mio uomo tornai in camera ed elencai delle idee potrei fargli un regalo no troppo ovvio o potrei taggarlo in una foto di noi insieme ma troppo disperato lo so devo fare quello in cui sono brava nel mio caso la musica e quanto sarebbe romantico cantargli una canzone d'amore non potrebbe resistere giorni dopo portai la chitarra in giardino una folla si radunò intorno a me così dissi ho scritto questa canzone per il mio ex logan volevo solo dire che ti amo tanto sarai di nuovo il mio ragazzo tutti applaudirono e questo mi rese più eccitata e iniziai a cantare dopo aver finito la canzone logan e jolly sono apparsi lui era impacciato e lei era così furiosa che pensavo le uscisse fumo dalle orecchie ma vabbè non mi importava di lei mi avvicinai a loro poi gli toccai la spalla tesoro ho lavorato duro per entrare nella tua università ora vuoi tornare da me poi con sorpresa disse con rabbia e li basta abbiamo chiuso sei pazza tutto questo è folle ora ti prego lasciami stare rimasi a bocca aperta mentre lui prese la mano di jolly per andarsene sentivo la folla a mormorare su di me sentivo il mio mondo crollarmi addosso mi deprimevo sul letto sognando giorni più felici con logan quando la coinquilina gettò il telefono sul letto e disse potresti volerlo vedere lo guardai cosa ero io qualcuno aveva filmato il mio fallito tentativo di serenata e ora ero virale ma gran parte dei commenti era di sostegno dicendo che avevo una bella voce dopo tutti all'università sapevano il mio nome ok quindi tutta l'attenzione era buona dopo tante richieste finì per pubblicare la canzone anche il consiglio studentesco mi invitò a partecipare ad una performance alla festa della scuola la mia vita scolastica era migliorata perché facevo ciò che amavo e avevo nuovi amici ma mi sentivo tutt'altro che estasiata perché odiavo il mio corso e non avevo ancora logan una sera mentre mi stiracchiavo sul divano e pensavo a logan arrivò un sms era di un numero sconosciuto mi disse di correre nel cortile del dormitorio perché c'era qualcosa che non andava con logan c'era un enorme folla radunata lì oh no era una cosa seria frustrata mi spinsi tra di loro e fu allora che vidi logan in piedi con le spalle verso di me al centro di una fila di candele disposte a cuore deve avermi scritto lui camminai tremante verso di lui e chiamai dolcemente il suo nome si girò si mise in ginocchio ma il suo sguardo era ancora a terra poi con mia sorpresa disse ti amo così tanto e voglio far parte della tua vita vuoi sposarmi jolly oh aspetta cosa jolly urlai lui guardò verso di me e urlò hayley cosa ci fai qui cosa succedeva mi voltai e fu allora che vidi che alcuni suoi amici erano dietro di me con delle foto di logan e jolly e degli striscioni che dicevano vuoi sposarmi jolly ok quindi questo proprio non era per me d'improvviso jolly apparve e beffarda disse prima fai stalking al mio ragazzo e ora rovini la nostra proposta sii realista non ti vuole prima che io potessi dire qualcosa logan mi urlò oh hayley per favore smettila ti supplico basta essere così ossessionata mi fa star male non ti amo più e non ti rivolgo mai più rimasi lì del tutto mortificata senti la folla di ridermi e scattare foto corsi via immediatamente con le lacrime sul viso ho richiamato con rabbia il numero che mi aveva scritto ma era bloccato doveva essere uno scherzo malato di qualcuno la settimana dopo il telefono vibrò cosa era logan aprì subito il messaggio ciao hayley guarda ho scoperto che jolly ti scrisse per vederti nel cortile la mia amica si è fatta sfuggire la proposta così inventò quello scherzo per deriderti il tuo atteggiamento l'ha fatta sentire insicura e anche se è sbagliato ciò che ha fatto te la sei cercata ti prego vai avanti e trova la felicità perché non sei tu le tue azioni ti hanno resa brutta e ti sei persa scoppiai in lacrime perché sapevo che aveva ragione avevo rinunciato alla mia passione e avevo fatto domanda per un corso che non volevo e tutto per un tipo che ancora non mi vuole era ora di rinunciare a logan e a questa scuola dopo tutto non era destino potevo anche essere bella ma l'aspetto da solo non compra l'amore c'è molto di più di questo per ora sono tornata a casa ma metterò il mio cuore e la mia anima nella musica poi entrerò ad una scuola di musica e farò composizione perché alla fine ho capito che non è il logan che mi renderà felice è la mia passione